Sicuramente è un'edizione particolare, direi coraggiosa perché siamo tornati in presenza e questo è molto emozionante. Noi come Gruppo Banca Sella siamo sempre stati vicini a questa manifestazione e anche quest'anno stiamo ascoltando i grandi e eccellenti progetti che stanno presentando. Metteremo a disposizione due premi, uno come Sella Lab che è un percorso di accompagnamento nel nostro network per portare a successo la start-up e come Banca Sella un bouquet di servizi del valore di 1000 euro per accompagnare in quelli che sono i servizi finanziari l'azienda che premeremo. Grazie